Musica Venerdì 26 luglio, buongiorno, bene ritrovate all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG Quest'oggi la cronaca in primo piano, un 14enne di Roma è morto in un campus estivo che si teneva in Umbria Si presuppone che sia stato un malore Poi parliamo ancora di Concorzopoli perché ci sono nuove testimonianze dal territorio eugubino Lo vedremo tra poco anche dalla homepage del nostro sito Il 57enne eugubino titolare di una ditta edile che è morto ieri in provincia di Verona Mentre stava perlustrando un tetto di capannone che avrebbe dovuto di lì a poco risistemare Queste alcune delle notizie in primo piano le vediamo dal Corriere dell'Umbria Che titola 14enne muore al campus Il ragazzo originario di Roma è stato trovato privo di vita all'interno di un agriturismo L'ipotesi è che in realtà si sia trattato di un malore Si trovava in un agriturismo del Perugino dove si teneva un campus in lingua inglese La notizia che arriva da Trevi dove sono stati scoperti i mosaici romani E poi la politica in vista delle prossime elezioni regionali Meloni, Fratelli d'Italia, dico sì alla Lega su Tesei E quindi Fratelli d'Italia potrebbe sostenere la candidatura alla guida della regione Di Donatella Tesei, candidata della Lega Dice ma per Marco Squarta voglio un ruolo centrale di governo Fa molto caldo, tante persone sono finite in ospedale per malori E poi da Passignano la lettera appello di un malato di SLA Da Gubbio l'abbiamo visto la notizia di cronaca proveniente dal Veronese Siamo alla Nazione, le bugie sui soldi Parliamo di concorsopoli, le parole di Duca al pubblico ministero Indiscrezioni sul bilancio e sui contratti dell'azienda ospedaliera di Perugia Muore a 14 anni, vacanza tragica, shock per decine dei suoi compagni nel campus a Lidarno E poi da Gubbio precipita dal tetto e perde la vita Volo fatale per un imprenditore Da Terni la rabbia dei vigili urbani, notturni e festivi sono a rischio Perché non ci sono fondi per gli straordinari E poi la storia arriva dal territorio del sisma In realtà poi nel dettaglio da Spoleto La finanza incastra tre restauratrici Avevano dichiarato un falso domicilio per ottenere un incarico di restauro Il messaggero Duca Bocci mi chiese le tracce Parliamo ovviamente di concorsopoli L'interrogatorio fiume dell'ex manager dell'azienda dell'ospedale Duca IPM Formisano e Abritti Dalla presidente Marini ha detto Duca ho avuto una segnalazione anche da Barberini Un elenco di persone da avvantaggiare Ovviamente testimonianze davvero scomode Frode fiscale con la scienza Viene indagato un imprenditore Esattamente un organo di ricerca padovano Ha visto uno spoletino dichiarare delle cose false E da qui nasce la frode fiscale Anche esempio di carte false Abbiamo visto si parla da Spoleto Carte false per i restauri Tre restauratrici sono state denunciate per truffa Avevano dichiarato di avere la residenza in Umbria Per poter accedere ad un bando delle fondazioni Cassa di Risparmio Umbre In realtà non erano di questo territorio Negoziante folignate derubata di tutto Incubo sull'isola di Madagascar Dove questa negoziante Alessandra Tempesta lavora ed opera E poi ancora ecco i rifiuti I sindaci provano a rianimare il centro-sinistra Con un documento in cui si propongono a lauri delle linee guida Sia sulla gestione dei rifiuti che dell'acqua E l'home page del nostro sito internet ci porta Come preannunciato nel territorio veronese Dove un eugubino è morto cadendo dal tetto di un capannone L'uomo stava perlustrando questo tetto Che avrebbe dovuto di lì a poco restaurare, ristrutturare Purtroppo il tetto ha ceduto E l'uomo è volato giù da 7 metri di altezza Si chiamava Giancarlo Nardelli 57 anni di Semonte Andiamo alle pagine regionali dei quotidiani Partendo dal Corriere dell'Umbria Si parla di rottamazione delle cartelle Ovvero di fisco 24.000 persone in fila per pagare A fine mese scade il pagamento della prima rata O in un'unica soluzione per mettersi in regola Intanto l'ordine dei commercialisti di Perugia Consiglia mai saltare una rata Al massimo saldare entro 5 giorni 40 sindaci del centro-sinistra in Umbria Hanno sottoscritto un documento Che indica al lauree linee guida per rifiuti ed acqua No agli inceneritori Il ciclo dei rifiuti si deve chiudere con accordi interregionali Questo uno dei must La politica intervista a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia Se il candidato è T6 l'appoggiamo Parliamo ovviamente delle prossime elezioni regionali Dice noi alla guida dell'Umbria proponiamo Squarta Ma la scelta non sarà terreno di scontro con gli alleati E Marco Squarta può avere spazio nell'esecutivo Dunque c'è assolutamente una apertura alla candidatura di Donatella T6 E poi prodotto interno lordo prossimo allo zero In consiglio regionale è stato presentato il documento di economia e finanza La regione Umbria cresce ma decisamente poco Il suo prodotto interno lordo dicevamo è prossimo allo zero La crescita è davvero piccola False attestazioni per vincere un bando La notizia l'abbiamo un pochino letta Era lo scorso anno quando la consulta delle fondazioni Cassa di Risparmio dell'Umbria Aveva fatto un bando dal titolo Task Force Valnerina Finanziato con 130 mila euro In cui cercava 12 restauratori Per poter intervenire su alcune opere dell'area della Valnerina Tre restauratrici Uno dei requisiti fondamentali del bando era essere residenti almeno da tre anni in Umbria Tre restauratrici, due pugliesi e un'altra del nord Italia Falsamente avevano dichiarato di essere residenti Ma la guardia di finanza a seguito di un esposto le ha incastrate Erano una ligure e due pugliesi Sono state accusate di truffa e tentata truffa E poi questo per le pagine di interesse regionale del Corriere Andiamo a quelle della Nazione Dove nel dettaglio si torna a parlare di concorzopoli Dubbi sul bilancio Duca, IPM, problemi sui soldi per le staminali Prosegue la inchiesta sulla sanità Appalti all'ospedale sicuramente Ma anche false in bilancio dall'indagine madre Infatti si sarebbero aperti altri capitoli ancora da verificare Come gastroentologia e la gestione del concorso per medicina interna Che potrebbero rivelare delle irregolarità Ma ovviamente stiamo lì a vedere Intanto le dichiarazioni di Duca davanti ai PM Hanno certamente fatto molto discutere Lo abbiamo già letto Falso per lavorare al dopo sisma Tre restauratrici che vengono denunciate E poi sangue sul lavoro Tragico volo di 7 metri Muore un imprenditore eugubino In un restauro, ristrutturazione di un capannone Vicino Verona Intanto anche il meteo Fa, come dire, discutere Ma soprattutto miete vittime In 200 ieri al pronto seccorso Per il gran caldo Aumentano anche i ricoveri E emergenza Aria torrida 36 gradi Percepiti in alcune città Era davvero impossibile respirare E poi parliamo di giustizia Perché Petrazzini all'unanimità È procuratore aggiunto La decisione è stata presa In commissione In carichi direttivi Ora deve essere il plenum A dire se va bene oppure no Fatto sta che la commissione Ha votato Giuseppe Petrazzini All'unanimità come procuratore aggiunto Vedremo se poi la carica Verrà confermata o meno Andiamo al messaggero Per le sue pagine di interesse regionale E allora Nel dettaglio La cronaca che abbiamo visto in apertura Arriva dal Perugino Muore in vacanza a 14 anni Il dramma è accaduto In un agriturismo a Lidarno Un ragazzino romano È stato ritrovato senza vita Mercoledì notte Indagini sulle cause di questa morte Presumibilmente Dovuta a un malore Era arrivato domenica Assieme ad una cooperativa Che fa campi estivi Ma dalla sera di martedì Non si sentiva propriamente bene Task Force Anti-invasione Di Vespe Calabrone Convenzione Fra Regione Prefettura e Vigili del Fuoco Per intervenire appunto Su Vespe e Calabroni Petrazzini Che abbiamo visto È stato votato all'unanimità Come procuratore aggiunto E poi ancora Per Concorsopoli Che è sempre uno dei temi Che interessano In modo particolare Il messaggero Bocci Mi chiese Le tracce Dei concorsi Questo avrebbe detto Duca Ai PM L'interrogatorio Fiume Dell'ex manager Dell'azienda ospedaliera Duca A Formisane Da Britti Rivela un ruolo Importante Fondante Potremmo dire Di Bocci In quella che poteva Essere Quello che Secondo la procura Era un sistema Delinquere Dalla presidente Marini Ha detto Duca Ai PM Ho avuto una segnalazione Ho consegnato Un elenco di persone Da avvantaggiare Nei concorsi Dunque una Dichiarazione Davvero pesante E poi abbiamo visto Il documento Che 40 sindaci Di centro-sinistra Siglano Per temi Come acqua E rifiuti Le loro proposte Per lauri Queste le pagine Di interesse regionale Scendiamo nel dettaglio Di quelle locali Ripartendo Dal Corriere dell'Umbria Da Perugia L'abbiamo già letto Dunque velocemente Muore a 14 anni In un campo estivo Ma vi segnaliamo Anche vittime Del gran caldo Ricoveri E malori In crescita In ospedale Gli accessi Al pronto soccorso Sono lievitati Del 30% Un mendicante A Perugia Ha fatto arrestare Uno scippatore Un 27enne Strappa la catenina Ad una donna Viene fermato Da un nigeriano Che stava In quel posto A chiedere L'elemosina E poi L'abbiamo già letto Nelle pagine regionali Dunque velocemente Il PM Giuseppe Petrazzini È stato votato All'unanimità Come procuratore Aggiunto Mentre All'ospedale Santa Maria Della Misericordia È stato nominato Il nuovo direttore sanitario Dopo la bufera Di concorso Ed è Luca Bianciardi Centri antiviolenza Senza fondi Chiudiamo Parla la presidente Dell'associazione Liberamente donna Non possiamo più pagare Neanche le bollette E poi Dal territorio A Perugia Civitella Darna Rivive la tradizione Della mietitura a mano Si è svolta La rievocazione Delle antiche usanze Del mondo contadino Mentre da Passignano C'è la lettera drammatica Di questo malato Di Sla Si chiama Andrea Zicchieri E' costretto A pagarsi da solo Cure ed assistenza Chiede attenzione A Regione Ed Asla In particolare Dice quest'uomo In una lettera Inviata al Corriere Dell'Umbria È normale Che in una regione Considerata civile Come l'Umbria Io Che non posso più camminare Che non riesco più Ad alzare le braccia Ne a muovere le mani Che fatico a parlare Sono costantemente Attaccata Ad un respiratore artificiale Sono costretta A pagarmi da solo I tre badanti Che a rotazione Si occupano di me Come mai in altre regioni È l'Asla Che provvede a tutto La domanda Ovviamente È inquietante Magione Una piazza in memoria Dell'ex sindaco Vincenzo Giannoni E poi città della Pieve Il Palio dei Tarsieri È tutto pronto Per la contesa Del pallium storico È stato presentato Il programma Dell'edizione Numero 47 Andiamo a Bastia Umbra Riforniva le piazze Di cocaina È stato arrestato Un albanese Domiciliato A Collestrada L'indagine Nasce casualmente Dall'allarme Per un presunto furto In abitazione Spacciava ad Assisi Bastia E Cannara A chi va a vivere In centro Ad Assisi Il comune Paga una parte Dell'affitto L'ente locale Contribuisce Per il 30% Ovviamente Una iniziativa Per ripopolare Il centro storico Di Assisi E ancora Assisi Il Palio del Cupolone Il rione Fornaci Sale dal terzo Al secondo posto Dietro i vincitori Del Ponte Rosso A Todi Anzi Sono partite Quest'oggi Dalle 6.30 Alle 60 Molgolfiere Che partecipano Alla Sagrantino Cup Per tre giorni Davvero uno spettacolo Di grande spessore Scusate Per più di tre giorni Perché tutta l'iniziativa Si concluderanno Il 4 agosto Dicevamo da stamattina Sono salite in cielo Le mongolfiere Che sorvoleranno Tutta l'area Del Tuderte Ancora Marsciano 100 biglietti Per il concerto Degli stadio Grazie ai commercianti Di Vivere Marsciano E poi da Todi La CGL Critica sul punto nascita Basta taglia Servizi sanitari I politici Non pensino Solo al rimpallo Delle responsabilità Ci spostiamo A Città di Castello Nell'agendina Dell'abitazione Di un albanese Che è stato arrestato Per spaccio di droga Sono stati trovati I nomi dei tanti clienti Ai quali veniva appunto Spacciata droga E sono persone Alcune anche Come dire Note Del territorio Dell'Alto Tevere Ancora Città di Castello Il Comitato Alto Tevere Sud ha incontrato Il Ministro Costa Per parlare Di questioni ambientali Mentre Torna in consiglio comunale La questione Dell'ascito Mariani Ballano 3 milioni 400 mila euro E ancora si discute Su come devono essere Impiegati Ad Umbertide Quattro strutture comunali Sono in cerca di gestore La piattaforma è chiusa Ci sono i bandi Anche per uso Sala polivalente Ex fattoria tabacchi Campi da tennis Ma il ritrovo per giovani Non riesce a riaprire Brava a Gaia Bonanno Di Città di Castello Primo posto Per questa allieva Dello studio Tifernate Giubilei Ad Etruria Danza E poi Da Gubbio La storia ve l'abbiamo raccontata Operaio muore Dopo un volo di 7 metri 57 anni Giancarlo Nardelli È morto Ieri nel Veronese Domani apre i battenti Arte incontro artigianato Mostra internazionale Tra Olanda e Italia E poi a Gubbio La Lega promuove Una raccolta di firme Per ripristinare Le corse Con i mezzi pubblici A Gualdo Tadino La Colonia fa il pieno Ben 2.900 Le presenze di scout In un anno Ceramica Lustro Quattro opere inedite Vengono esposte in città Grazie al polo museale gualdese A Nocera Comune Università per stranieri E il Liceo delle Scienze Umane Insieme per un progetto di ricerca Nella Sacralità dei Testi A Costacciaro Il premio del Senato Per la Sagra Dei Bigoli Premiata tra le 21 Sagre di Qualità d'Italia A Foligno Fantauzzi e Bagatti All'ente giostra De Bonis A Felcos Il sindaco Zuccarini Ha nominato i rappresentanti Dell'amministrazione In ente d'associazione La Quintana La Quintana vanno Davide Fantauzzi E Federica Bagatti Consiglieri di Movimento 5 Stelle E Lega Incontro tra l'assessore E le realtà culturali cittadine Barili dice Subito iniziative Per promuovere Pier Marini E poi andiamo a Trevi Dove sono riaffiorati 50 metri quadrati Di mosaici romani Il tutto Nel sito di Pietra Rossa Sono databili Al secondo secolo Dopo Cristo A Spoleto L'assestamento di bilancio Passa tra le molepiche Votano sì I soli consiglieri Di maggioranza E ancora a Spoleto Visite guidate Ai tesori della città Dopo appuntamento Oggi e domenica Ancora dal territorio Spoletino 60 eventi in centro Questo è il cartellone Di Spoleto D'estate Non solo Non solo Perché c'è anche Il concerto di Patty Smith Il prossimo dicembre Andiamo A Terni Tre case svaliggiate In poche ore E due colpi Andati a segno Mercoledì In via Tintoretto E via Curio Dentato E poi ancora Terni Polizia locale A rischio I turni notturni E domenicali Nell'accordo integrativo Non sono previsti Fondi sufficienti Questo era Il Corriere dell'Umbria Andiamo alla Nazione Per le sue pagine Di interesse locale In particolare Da Perugia Trasporti La soluzione È il tram Treno Cresce il dibattito Su come gestire La viabilità cittadina E il grido d'allarme Lo abbiamo visto Dei centri antiviolenza Senza soldi Senza fondi Rischiamo Dicono i centri antiviolenza Di chiudere Dal Trasimeno Siamo a Tuoro Il museo di Annibale Trasloca Il comune di Tuoro Chiude la storica Sede del museo L'esposizione Ridotta In centro Viene trasportata Trasferita Praticamente Nel centro Ma resta Il dubbio Di come Gestire Il patrimonio Che racconta Una Delle più Importanti Battaglie Della storia romana Durante la seconda guerra punica Che vede Vide Protagonista Proprio il personaggio Annibale Città della Pieve Palio dei Terzieri Fervono i preparativi Tutte le novità E poi Andiamo ad Assisi Dove sono stati Prorogati Permessi Per il centro Agli artigiani Sostegno A chi lavora In centro storico Spacciava droga Arrestato giovane Albanese Vendeva sostanze Stupefacenti Anche a Bastia E a Bastia Si festeggia Sant'Anna A gubbio Parla l'assessore Valerio Piergentili Su parco Ranghiacci L'ipotesi Della chiusura di notte Sistemate le staccionate Lavori Per 15 mila euro A Gualdo Tadino Si ricostituisce Il gruppo fotografico Andiamo a Città di Castello Il comitato per l'ambiente Incontra Il ministro Costa I temi sono Color Glass Ed Eco Partner E poi a Dumbertide La notte bianca Dedicata a Dante Appuntamento Domani con musica Danza E negozi aperti Barriere architettoniche Si intervenga Al più presto Il sindaco Bacchetta Di Città di Castello Dice bisogna colmare Il gap Tra leggi E realtà E a Foligno La pista ciclabile Abbandonata E nel degrado La rabbia Dei ciclamatori Che chiedono Immediati interventi Di pulizia A Spoleto Raccolta differenziata Un nuovo sistema Per 8 mila famiglie E poi Ancora da Foligno Domani A Foligno Arrivano auto E moto D'epoca In mostra In particolare Nella frazione Di Rasiglia A Montefalco Premio Spighe Verdi E il quarto successo Al comune Il riconoscimento Di Confagricoltura E per Terni C'è la protesta Dei vigili urbani I turni Notturni E festivi Sono a rischio Perché non ci sono Fondi sufficienti Per il contratto Integrativo Questo per la nazione Chiudiamo Con il messaggero Casa Nuovere Styling Al parco Siamo a Perugia Giochi sicuri A cura del verde All'impegno Di un residente Per l'area Che ha fatto scattare Tanti interventi Del comune E poi Abbiamo già Ampiamente letto Le pagine di cronaca Del messaggero Parliamo Di quello che è accaduto L'abbiamo visto Nelle Veronese Cade dal capannone Muore La vittima È un operaio Di gubbio Ad Assisi Bastie Cannara Stroncato un traffico Di droga Arresti e denunce E poi Protesta dei pendolari Lettera a Chianella La situazione Dei treni È diventata insostenibile Si parla Della Tratta ferroviaria Che doveva essere In qualche modo Più veloce Ma così non è Sembra di stare Su scherzi a parte Basta parlare Di una ferrovia Che non esiste Questo dice Annalisa Costa E poi Città di Castello Regala frutta e verdura In venduta Da oltre Quattro anni Un Esercente Si preoccupa Di chi ha Più bisogno Ancora Nella Pagina Dedicata Agli appuntamenti Le barche Le barche a Passignano Gli stadio a Marciano Il violino di Bron Questi alcuni Degli appuntamenti Mentre per suoni Controvento Benvenuti all'inferno Del Monte Cucco Con la voce Di Ciro Ciro Masella Si esibisce Al festival Suoni Controvento Nello Spazio Suggestivo Della grotta Di Monte Cucco Andiamo a Foligno La mia vacanza In Madagascar Si è trasformata In un incubo Parla Alessandra Tempesta In spiaggia Le rubano soldi E documenti Per fare ritorno In Italia Serviva un documento Che alla fine È arrivato Ma insomma La vacanza Le è stata rovinata Live a Trevi All'antifestival Arriva Franco 126 E poi Montefalco Che viene premiata Da Confagricoltura Con Spighe Verdi Sviluppo urbano A Palazzo Trinci L'originale opera Di Marco Fagioli E poi Andiamo a Spoleto Carte false Per gli incarichi Denunciate tre restauratrici L'abbiamo già letto Nelle pagine Di Cronaca regionale Da Patti Smith A Bosso Il cartellone è lungo È stato presentato Il cartellone Spoleto d'estate Che in realtà Non è soltanto d'estate Perché è un cartellone Che arriva fino Al 6 gennaio Del 2020 E poi Da Terni Abbiamo visto Oggi l'argomento È l'accordo Che non c'è Sui vigili urbani E sui loro Turni notturni E festivi Questo per le pagine Di Cronaca ed Attualità Ci fermiamo Per qualche momento E poi parliamo di sport Per le pagine Per le pagine E poi Per le pagine